ciao a tutti ragazzi stasera cena fuori in balcone ragazzi perché si sono allungate le giornate e stanno facendo belle giornate e quindi si può mangiare fuori finalmente sieteci vero e guardate oggi che abbiamo comprato uno squishy con il marshmallow qui e profumo di marshmallow perché cosa c'ha in mano di marshmallow che carino è morbidoso è squiscioso e ragazzi guardate stasera cosa abbiamo per cena non abbiamo mica il marshmallow wow buono allora abbiamo preparato piatti altro e altro eccomi hai ragione che non serve non sappiamo nemmeno noi cosa ci ha preso nostro padre ah ecco è una sorpresa per tutti sì non sappiamo nemmeno ok peschiamo una cosa alla volta c'è un problema però c'è un problema davvero graveri lo strappiamo vai no tiralo fuori allora vediamo io non ci arrivo allora c'è un mac un big mac un big mac poi cosa ci sta oh sono un botto di roba ragazzi è un botto di roba ragazzi è mio è mio qui un'altra cosa poi prendi un'altra cosa una cosa a te oddio ragazzi è super pesante super pesante che è questo che cos'è la mela la mela come dolcetto e poi sono dei grassini molti cose sai per te vai pesca che cosa sono adesire? patatine oh patatine mmm deliziose poterle al potetto? potetto? poterle al potetto vai adesì pescate pescate dai adesì adesì pescate vai quelle sono le mie patatine oh dio una mega coca cola una mega coca cola attenzione allora tieni quelle sono le mie perché tu già ce l'hai aspetta 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 ragazzi c'è un po' femmino una mega coca cola grazie aspetta sono della stessa misura mettiamo già le cannucce le cannucce sono prese ecco qua togliamo la busta apriamo ovviamente ti ho voluto bene ragazzi qua sono delle buonissime patatine una buonissima coca cola che andrei subito a mettere la cannuccia io qua dentro c'ho la sorpresa e io la sorpresa già sai che sorpresa hai? un po' pazzo però apri guarda si temi vai togli la carta togli non è bel termine togli vabbè oggi ci sono tutti i termini nuovi oggi e ieri vabbè apri vai apri 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 ti aiuto? si come ti apri? non so nemmeno io trappa trappa oh che abbiamo qui dentro? questo che cos'è? oh che carino è questo oh che carino la foca allora come si ha? si è prizzata sempre in angers si è prizzata vediamo vediamo sbirchiamo qui dentro cosa c'è patatine no 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 perché c'è lo sticker c'è lo sticker basta rompere tutto oh si è aperto vediamo uh che carino ma questo sono i peluche belli che avete di questa marca voi anche che era il maialino il maialino che a desiderio gli piace troppo bello quando piango quando piango basta che mi prendi il maialino vediamolo da vicino come è fatto che carino noi ce n'abbiamo un botto bellissimo ok ragazzi io c'ho pure quello della scuola vecchia che ce l'hanno dato alla fine della scuola ah vabbè ragazzi apro io allora vediamo il mio big mac vediamo oh oh ragazzi ecco il mio big mac oh sbarralino però vabbè mmm tu ce l'hai le patatine ok ragazzi che odore che si sente qui ragazzi eh sì un odore squisito vediamo desiderio le patatine e i nuggets e i nuggets ragazzi voglio fare una cosa che molti fanno prendere la scatola del panino questo lo fanno tutti c'è oh non si tiene me so mettere le patatine per bilanciare e voilà oh che paura funziona ragazzi potete fare tutto perché potete bere allora mangiare il panino e mangiare le patatine beh diciamo che è un'ottima tecnica allora mangiare le patatine mangiare le patatine e mangiare le patatine ma la maionese il ketchup non c'è? no ah ma volete un po' di maionese? sì adesso allora prendiamo anche un po' di maionese così ci intingiamo le patatine allora ragazzi ho fatto una magia la corchetta è mia voilà la mia magia wow Arrivato tutto l'occorrente Per intingere le patatine Io voglio questa e questa Io voglio questa Faccio una cosa ragazzi La metto qua E ragazzi Prendi la carta La carta delle patatine Vuoi una ciotolina Desi Facciamo un'altra magia Facciamo comparire una ciotolina Ok Intanto prepariamo le cose E facciamo la magia Io strappo questa busta Per metterci il ketchup Ma adesso anche allo squishy fai mangiare qualcosa Che cos'è quello E voilà Ecco la ciotolina Vai Ragazzi mi sto Sporcando tutta Ma c'è la ciotolina Ma no Desi non ha capito Ma la magia della ciotolina Era per il ketchup Non per le patatine Eh ma non c'avevo niente Ragazzi scrivete nei commenti A voi piacciono più i panini Oppure i nuggies Oppure i nuggies Desiree dice sempre che si vuole prendere il panino E però certe volte Cioè si prende sempre le patate e i nuggies No a me piace il panino No a me piace il panino Quello con la cotoletta di pollo A me con l'hamburger sempre Te desirei un giorno di questi Lo assaggerai un bel paninozzo con l'hamburger Io l'ho già assaggiato Uno è vero Quando l'hai assaggiato? Un panino E noi dove stavamo Quando hai assaggiato il panino con l'hamburger? Non c'eravamo? No c'è Io non me lo ricordo Quando ci ha mangiato Noi tre Ti ricordi? E abbiamo mangiato il panino? Sì anche lei Ah ok Mi ricordo Vabbè ragazzi Noi ci vediamo dopo Noi ci finiamo tutto Ci vediamo dopo Ciao Ah ragazzi Ci siamo mangiate tutto Vero Desiree? Sì è molto buono Era buonissimo ragazzi Ma a me ne manca ancora il dolce Che non è un dolce È una frutta Una frutta Vabbè E ragazzi Noi vi auguriamo una buona Sena Una buona sena Una buona serata E vi diciamo Speriamo tanto Che Vi chiede Iscrivetevi al canale Delle E E al prossimo video Ciao Ciao A presto